Neanche 16 anni e già specializzati in furti e rapine, quattro ragazzini sorpresi a svaliggiare un'abitazione, un altro minorenne è utato da un pluri pregiudicato preso dopo aver rapinato tra i supermercati. Giorni intensi per gli aspiranti parlamentari, continuano le presentazioni delle liste dei programmi, si punta su infrastrutture, università e precariato. Sindaci al Verde ed impossibilitati a pagare dipendenti, si pianifica una mobilitazione regionale organizzata dall'Anci, pomeriggio di intenso vertice a Scicli. La cassa integrazione arriva anche per i dipendenti regionali dell'Aras che da sei mesi non percepiscono lo stipendio, 150 ai posti di lavoro a rischio. L'Amio di Vittoria ha assicurato agli operai il pagamento degli stipendi, i dipendenti sono tornati al lavoro ma i cassonetti non sono stati ancora svuotati. Buon pomeriggio, bentrovati con la prima edizione del telegiornale dalla redazione di Video 1. Apriamo con la cronaca di furti e rapine, una baby gang specializzata nei furti in appartamento, una rumena sorpresa a rapinare e aggredire per pochi euro una connazionale ed infine un pregiudicato con un altro minorenne presi subito dopo aver svaliggiato tre supermercati di Ragusa. È l'esito degli ultimi interventi della polizia ma facciamo il punto in questo servizio. 16 anni e già ben organizzati per perpetrare furti. In quattro, dopo aver organizzato il piano, si recono in una casa di piazza San Giovanni a Ragusa. Sanno che in quell'appartamento non c'è nessuno ma solo quello che serve, personal computer. La prima volta il piano fallisce perché la vicina di casa si accorge dei rumori provenienti dalla casa disabitata e si insospettisce. Va a controllare e trova i quattro all'interno dell'abitazione. I minori avevano fatto chiasso per rintrodursi e avevano preso calci e pugni e spallate alla porta riuscendo comunque ad aprirla. Visti si scoperti, i quattro ci danno alla fuga ma non contenti per il piano saltato tornano nello stesso appartamento dopo circa un'ora del primo tentativo. I giovani questa volta, come una vera baby gang, si dividono i compiti in modo ben preciso. Vista la presenza dei vicini, tre dei minori fanno da palo e uno fa ingresso in casa per prelevare il computer. La porta, dopo il tentato furto delle venti, è stata riparata dal cognato del padrone di casa al momento assente per motivi di lavoro. Nonostante la catena, un grosso catenaccio, la porta viene nuovamente forzata, il capobanda entra, mette a segno il colpo e possessandosi del computer, ma appena fuori dall'abitazione viene sorpreso proprio dal cognato del proprietario della casa che poco prima aveva riparato la porta apponendo un grosso lucchetto. L'uomo riesce solo a bloccare due dei quattro minorenni, mentre gli altri saranno risciuffati poco dopo dagli uomini della sezione volanti in piazza San Giovanni. Il capobanda, così come dagli altri complici considerato, è lo stesso autore del furto di uno scooter a ragusa di proprietà di un suo coetaneo. Il fatto risale a circa tre giorni fa e fu ripreso dalle telecamere. Il minore arrestato è stato condotto al centro per minori di Catania a disposizione della procura dei minori, mentre i tre complici sono stati affidati ai genitori. Lo stesso giorno una sezione volante arresta una rumena che ha aggredito una connazionale in via Roma a Ragusa, prima picchiandola e poi derubandola del cellulare del portafogli contenente documenti a 20 euro circa. La volante riesce a identificare nel giro di un'ora la rumena, secondo la descrizione fornita dalla vittima. La giovane, una 36enne residente a Ragusa, virale a Cosmina Bucataro, viene trovata in possesso durante una perquisizione personale della refurtiva rapinata all'interno del reggiseno. La rumena e la vittima avevano avuto in comune, ma in tempi diversi, lo stesso fidanzato. Da quanto appreso, infatti, la rapina è stata commessa per vendetta nei confronti della vittima che stava minando la serenità di un rapporto interpersonale. La donna ferita è stata giudicata guaribile in otto giorni per il trauma alla schiena, mentre la rumena è stata condotta in carcere in piazza Lanza, a Catania. Le manette sono scattate anche per un pregiudicato di 22 anni Modicano, Giancarlo Noto, per aver rubato il cassetto al registratore di casa di un negozio sportivo in Corso Italia-Ragusa con all'interno 1000 euro e per aver perpetrato furti anche in altre due attività a Modica. La refurtiva viene recuperata dagli agenti della sezione volante in Viaccio-Maragusa. Solo alle 6 del mattino Noto viene arrestato dalla polizia di Modica in via Risorgimento. A carica del pregiudicato e dell'accomplice, un minore di origine ucraina, sono riconducibili tre furti in altrettante attività. Il minore è stato rintracciato fuori dai casi di flagranza e solo per questo non è stato arrestato ma denunciato in stato di libertà. Il minore è stato affidato alla madre in attesa di provvedimenti dalla procura dei minori di Catania. E adesso la pagina politica. Continuano gli incontri a tappe forzate dei vari candidati alle regionali di fina mese. Facciamo il punto di quanto è accaduto nelle ultime 24 ore in questo servizio. È tempo di presentazioni. I partiti politici sembrano passarsi la staffetta per quanto riguarda le conferenze stampa in cui spiegare liste e programmi. Questa mattina, secondo appuntamento con gli elettori per Innocenzo Leontini di Cantiere Popolare, in via generale della chiesa a Ragusa, il parlamentare uscente Leontini ha parlato di programmi in vista delle prossime elezioni. Leontini si è soffermato sui punti nevralgici della provincia eblea come le infrastrutture, trattando però argomenti che in passato lo hanno visto come diretto interessato, ovvero la sanità. A Palazzo dei Normanni si tenderà anche di stringere la cinghia con la riduzione dei parlamentari e delle spettanze. Ieri invece è stata la volta della lista Crocetta presidente con Di Pasquale, Currieri, Nicosia, Scuto e Gradini. Sempre ieri è sempre a sostegno di Crocetta anche il Partito Democratico, nella cui lista appaiono calabrese di Giacomo, Ammatuna, Sammito ed Elia. Il Partito Democratico sembra tenerci parecchio a mostrarsi unito. Lo stesso Gianni Battaglia è stato chiaro. Un partito unito non può temere nessuno. Con la scelta di calabrese candidata alla regione si è tentato di creare un percorso nuovo che continuerà anche nelle prossime competizioni elettorali. Intanto Di Pasquale continua con il giro nei comuni Iblei, ieri a Vittoria, per parlare con i simpatizzanti di territorio e per promuovere la propria campagna elettorale. Renato Melli, candidato indipendente nelle liste Udc, parla invece di trasparenza. Melli si impegnerà a comunicare nel minor tempo possibile le spese sostenute dal proprio comitato elettorale in vista delle ragionali del 28 ottobre. Melli quindi punta sulla trasparenza e sulla coerenza con gli elettori, soprattutto in un periodo di crisi. Il coordinatore del Movimento Insieme per la Sicilia, Mario Cocco, ha deciso di sostenere il candidato all'arse Pippo Di Giacomo. Cocco, insieme a alcuni rappresentanti del Movimento, ha tenuto ieri una conferenza stampa nella sede del comitato elettorale di Pippo Di Giacomo. Insieme per la Sicilia è presente a Comiso, Vittoria, Acate, Santa Croce, Modica e Ragusa. In casa PDL il capolista Momo Carpentieri continua la propria campagna elettorale tra la gente. Si punta sempre sulla trasparenza e sul dialogo, uno slogan che d'altronde dice tutto, esserci insieme per ritrovare una sinergia tra elettore ed eletto che sembra ormai persa. Si pensa ai grandi progetti come l'aeroporto di Comiso, ma anche ad assicurare gli stipendi ai dipendenti comunali attraverso iniziative concrete non solo a Palermo ma anche a Roma. Carpentieri non usa mezzi termini nel descrivere l'assurda gestione della regione negli ultimi anni e avanza a proposte concrete per ripartire con i finanziamenti agli enti locali e quindi assicurare stipendi a dipendenti e servizi a cittadini. Cambiamo argomento e torniamo a parlare del mancato pagamento degli stipendi ai comunali. Una mobilitazione regionale organizzata da Lanci si vogliono muovere su questo fronde i sindaci della provincia di Ragusa che ogni giorno si trovano contro i dipendenti comunali ed è l'indotto appunto per il mancato pagamento degli emolumenti. Nel pomeriggio riunione dei sindaci a Scicli. Vediamo. Una manifestazione regionale e la risposta primaria a tutti i malumori, alle proteste ai cortei organizzati dai dipendenti comunali dei 12 comuni della provincia, sette dei quali con le casse al verde. Ogni giorno le proteste proliferano a Scicli come è successo stamattina con i dipendenti in mobilitazione davanti al municipio, ad Ispica, Modica, Pozzale e Dacate. I sindaci non riescono a trovare soluzioni, ha riferito Aldo Mattisi, sanitario provinciale della funzione pubblica CGL. Alla luce del blocco dei trasferimenti regionali e della decurtazione del 48% di quelli statali, i sindaci hanno proposto una mobilitazione regionale con Lanci per individuare le forme di precisione sull'assessorato regionale all'economia e se sarà necessario anche sui ministeri competenti. I primi cittadini intendono ottenere anche tramite un provvedimento straordinario l'immediato trasferimento delle due trimestralità di cui tutti i comuni sono in attesa. Ogni iniziativa di questo tipo necessaria per scongiurare il rischio che l'evidente crisi finanziaria strutturale della regione siciliana si ripercuota a cascata sugli enti e quindi innanzitutto sui dipendenti e sui cittadini. L'assessore al bilancio del comune di Modica, Santino Amoroso, non ha portato notizie positive per gli enti da Palermo circa lo sforamento del patto di stabilità da parte della regione che ha determinato un gravissimo allarme, si legge nella nettera, per il prossimo futuro oltre a fronteggiare le situazioni di emergenza che in molti dei comuni siciliani si stanno determinando a seguito della mancata erogazione dei trasferimenti ordinari. Dopo l'erogazione, lo scorso mese di giugno di una somma pare al 50% delle prime e due trimestralità dei contributi ordinari a titolo di anticipazione non è più stato messo ordine alla programmazione regolare dei trasferimenti. Il comune di Scili continua ad essere presidiato mentre nel 17.30 il sindaco Franco Susino ha convocato tutti i sindaci della provincia e il commissario straordinario scarso che però ha fatto sapere di non essere presente ed avere delegato il suo vice pugliesi. Oggi Susino renderà noto un documento stilato il 7 giugno e che potrebbe trovare d'accordo i sindaci che oggi parteciperanno all'incontro per fronteggiare l'emergenza economica negli enti locali. La cassa integrazione arriva anche per i dipendenti regionali dell'ARAS che da sei mesi non percepiscono lo stipendio. 150 posti di lavoro a rischio nello stesso ente a livello regionale, 20 soltanto in provincia di Ragusa. Sentiamo i dettagli. Il primo ottobre anche i 25 dipendenti dell'ARAS, l'associazione regionale allevatori della Sicilia, saranno messi in casa integrazione dalla regione siciliana. Da sei mesi non percepiscono lo stipendio e dopo aver organizzato un sitino a Palermo per cercare una risposta alle loro istanze sono tornati a Ragusa con un pugno di mosche in mano. Da aprile nemmeno un euro. Due giorni fa la regione ha inviato loro un'email rendendo noto che dal primo ottobre il personale sarà a cassa integrato a rotazione almeno fino a dicembre. E in tutto sono 20 dipendenti, molti di loro con una famiglia a carico, molto di loro dipendenti dell'ente da almeno 30 anni. Come il caso di Mario Imbrò, un ragusano di 53 anni e dal 1982 responsabile del laboratorio regionale latte. Una laurea in ingegneria chimica si è sempre occupato di effettuare le analisi dei campioni di latte di tutto il territorio siciliano garantendo la salubrità e l'igiene di tutto il latte che viene prodotto in Sicilia. Imbrò è anche riuscito ad ottenere la certificazione di accreditamento ai sistemi di qualità e l'inserimento nell'albo regionale dei laboratori accreditati della Sicilia. La giornata lavorativa di Mario iniziava tutte le mattine alle 7.30, oggi si ritrova a casa con un cumulo di debiti a pensare come garantirsi un domani. I dipendenti hanno paura della parola a cassa integrazione straordinaria e neroga. Cosa significa? Si chiedono. Che al momento che l'ufficio del lavoro esaminerà la richiesta della nostra pratica, se non viene la copertura economica, non viene concessa, aiutateci e l'appello di Mario Ingrò come quello di tanti altri italiani cassa integrati. In Sicilia l'Aras ha messo a rischio 150 posti di lavoro. La provincia di Ragusa, secondo l'ufficio provinciale del lavoro, è la provincia in Sicilia prima per numero di cassa integrati in neroga con 137 degreti a messi corrispondenti a 136.352 ore di cassa integrazione. Guadagni. Passiamo adesso alla giudiziaria. Nuova udienza ieri davanti al collegio penale del Tribunale di Modica del processo a carico dell'ex sindaco di Pozzallo, Peppe Sulcenti, e del sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. I due sono accusati di abuso d'ufficio per un incarico di sei mesi. Al comandante della Polizia Municipale di Vittoria. Sentiamo. Processo contro l'ex sindaco di Pozzallo, Peppe Sulcenti, ed il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, per la vicenda dell'incarico a scavalco delle dirigenti della Polizia Municipale di Vittoria, Giuseppe Piccione, al comune di Pozzallo. L'inchiesta avviata dalla procura di Modica per abuso d'ufficio si è conclusa con il rinvio a giudizio e ora si sta celebrando il processo. Ieri, davanti al collegio penale del Tribunale di Modica, sono stati interrogati un finanziere di Vittoria ed un dirigente del comune di Pozzallo. Oltre ai due sindaci, nel frattempo Sulcenti ha concluso il suo mandato e non ha più nessun incarico pubblico, sono imputati anche il segretario generale di Pozzallo, Gian Piero Bella, ed il direttore generale Giovanni Modica, e l'ex comandante della Polizia Municipale di Vittoria, Piccione, che ebbe l'incarico a scavalco per sei mesi nel 2008. La denuncia partì da alcuni consiglieri comunali di Pozzallo. Ieri, in aula, i due testimoni hanno parlato della documentazione acquisita da parte della Finanza. Secondo l'accusa, Piccione avrebbe tratto dall'incarico un vantaggio patrimoniale non dovuto, mentre a Pozzallo altri al suo posto avrebbero potuto ricoprire quell'incarico. Il processo è stato aggiornato al 21 novembre. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha confermato la custodia cautelare in carcere per Rosario Tabaccheria, l'uomo che domenica mattina ha inferto due colpi di coltello alla gola della moglie, nel piazzale dell'ipermercato. Le dune, intanto la moglie è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa. Era stressato dai parenti per la sua condizione di disoccupato. Non riusciva più a reggere il peso di una situazione in cui tutti soffrivano per la difficoltà economica. Non aveva i soldi per sopperire ai bisogni dei figli il Rosario Tabacchiera, l'uomo di 42 anni che domenica mattina, intorno alle 10.30, ha accoltellato la moglie nel piazzale dell'ipermercato Le Dune di Comiso. È scappato a piedi, è stato raggiunto poco dopo dai carabinieri in una strada poco distante, incontrata deserto, è stato condotto nel carcere di Ragusa. Ieri è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Tabacchiere è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Giampiccolo alla presenza del suo avvocato Mario Mascolino. Il giudice ha confermato la custodia a cautelare in carcere, ma non è escluso che nei prossimi giorni gli possano essere concessi gli arresti domiciliari, ma non può andare a casa, dove nel frattempo è tornata la moglie dopo una breve degenza all'ospedale di Vittoria. Le ferite inferte dal marito con un coltello da cucina molto appuntito, per fortuna erano superficiali. La donna guarirà in 15 giorni. Più difficili da sanare invece le conseguenze familiari, un rapporto da ricucire, se potrà essere possibile, ma soprattutto il lavoro da trovare per poter sfamare la famiglia. Anche se ora si trova gli arresti e dunque Tabacchiera non potrà lavorare. Nel frattempo, se il giudice dovesse concedere gli arresti domiciliari, l'uomo potrebbe essere ospitato dal padre. Poi si aprirà la lunga fase processuale, ma potrebbe scegliere il rito abbreviato per avere uno sconto della pena. Non ha nessun precedente, mai nessun guaio con la giustizia, ma domenica mattina ha perso la testa ed ha impugnato un coltello. Adesso ci sono le altre notizie riassunde in breve. La Polizia di Comiso e del Reparto Prevenzione e Crimine Sicilia Orientale ha effettuato una capillare attività di controllo nelle zone di Santa Croce Camerina a Comiso. Controllate 59 persone, 31 autoveicoli, elevate tre contravvenzioni al codice della strada e un'auto è stata sequestrata per mancanza della prescritta copertura assicurativa. I controlli sono stati estesi a 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari, 11 sorvegliati speciali. Sono inoltre state effettuate due perquisizioni domiciliari. Sono stati impiegati 10 equipaggi di polizia che hanno perlustrato le zone centrali dei due paesi al fine di prevenire e reprimere qualsiasi reato predatorio. Diventa definitiva la condanna a tre anni di reclusione e la multa di 800 euro, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per Ignazio Rimaudo, vittoriese di 31 anni arrestato in flagranza di reato nel settembre 2010 per la rapina al Monte dei Paschi di Siena, in concorso con altri due soggetti. Era agli arresti domiciliari ed è stato condotto in carcere dai poliziotti della Volanti di Vittoria, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, non sussistendo ai requisiti per la prosecuzione degli arresti domiciliari. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale, Maria Rabini, ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo aggravato il modicano GT di 40 anni. L'automobilista, il 6 di ottobre del 2010, era alla guida della sua BMW e percorreva la Provinciale 126 sulla Modica Giarratana, quando si scontrò con la Citroen, sexo condotta dalla vittima. Dalla indagine è emerso che l'indagato, un bancario rimasto fortunatamente solo contuso, procedeva ad una velocità circa di 82 km orari, superiore a quella massima consentita. L'imputato dovrà comparire davanti al giudice del dibattimento il prossimo 18 di marzo. Torniamo a parlare di infrastrutture, prosegue l'inchiesta sulla gara per la gestione dell'aeroporto di Comiso. Secondo i carabinieri che ieri hanno effettuato alcuni sequestri, è a rischio l'aggiudicazione della gara se l'inchiesta dovesse rivelare le irregolarità di cui si parla. L'inchiesta è partita da lontano dagli accertamenti e dalle verifiche sui motivi per cui non parte l'aeroporto di Comiso, un aeroporto il cui destino appare appeso ad un filo e proprio nei giorni in cui sembrano attrapelare notizie positive da Roma arriva anche la notizia del sequestro di documentazione sull'aeroporto da parte dei carabinieri. Documenti, cartacei e materiale informatico sulla gara che 5 anni e mezzo fa, nel marzo 2007, ha giudicato la gestione dell'aeroporto alla società catenese InterSac e raggruppamento di imprese formata da Sacchi di Catania e Interbanca. InterSac si aggiudicò il 51% delle quote di Soa con la società di gestione dell'aeroporto, la cui certificazione sta per essere completata in questi giorni. In seguito acquisì un ulteriore 14%. Su queste procedure sta ora indagando la procura di Ragusa che vuole verificarne la regolarità. L'inchiesta è affidata ai carabinieri che ieri hanno proceduto ai sequestri di documentazione al comune di Comiso, nella sede della Soaco della Sacchi di Catania, in uno studio di Ispica e nella sede milanese di Terranova, l'advisor che ha curato la collocazione delle quote e le procedure della gara. Secondo i carabinieri è a rischio ora l'aggiudicazione della gara. Intanto ieri è stata a Comiso una delegazione del Dipartimento francese dell'UAS, il senatore Vantome ed il direttore dell'aeroporto di Beauvais, Marco Amodri, hanno visitato l'aeroporto Magliocco ed hanno incontrato il sindaco di Comiso ed il presidente di Soaco, Rosario Di Bernardo. Allo studio l'ipotesi di collegamenti tra Comiso e l'aeroporto parigino di Beauvais, dove si privilegiano i voli low cost in gran parte gestiti dalla Ryanair, lo stesso vettore che stando al piano industriale potrebbe essere interessato a volare da Comiso. E a Vittoria l'AMIO ha assicurato agli operai il pagamento degli stipendi. Dipendenti sono tornati al lavoro ma i cassonetti non sono ancora stati svuotati in molte zone della città e questa sera saranno tutti alla seduta consigliare convocata per la liquidazione dell'AMIO. Sentiamo i dettagli. Spazzatura ancora nelle strade. Il problema della nettezza urbana si è risolto solo in parte e a Vittoria. Nel giorno più atteso per i lavoratori dell'AMIO, questa sera si svolge la seduta consigliare che deve decidere la liquidazione dell'azienda, i cassonetti sono ancora pieni in varie zone della città e restano il simbolo di una situazione di difficoltà non ancora risolta. Gli operai ieri sono tornati al lavoro dopo aver ricevuto assicurazioni sul pagamento degli stipendi entro fine mese, con un acconto già questa settimana, ma contestano le scelte che sono state operate dall'Aggiunta e su cui il Consiglio deve pronunciarsi. Chiedono che resti in vita un'azienda pubblica, magari con partecipazione del privato, ma che permetta di salvaguardare il loro posto di lavoro e la situazione di dipendenti di azienda pubblica. Non ci stanno a transitare nelle fila di un'azienda privata. Intanto l'emergenza dell'azienda, senza soldi e con mezzi ormai vetusti, le difficoltà dettate anche dal blocco per due giorni della discarica di gel a causa dei mancati pagamenti, si riversano tutti sulla città. La spazzatura abbonda nelle strade, gli operai fanno il possibile, ma lo sguardo di tutti è ormai rivolto altrove ad un futuro carico di incertezze, anche se l'amministrazione comunale ha assicurato che i loro contratti saranno garantiti dalla nuova ditta cui sarà affidato l'appalto. Intanto il PDL ha presentato un emendamento, contesta gli estremi di urgenza e chiede che per l'affidamento del servizio venga indetta una gara pubblica per garantire il massimo della trasparenza. A Ragusa saranno consegnati domani i lavori di completamento del parcheggio interrato del cantiere di piazza Stazione all'impresa appaltatrice di Catania, la GFF Impianti. Il commissario straordinario del comune capoluogo, Margherita Rizza, firmerà il verbale di consegna dei lavori, aggiudicati per un importo di 848.646 euro. I lavori riguarderanno l'impianto elettrico, l'impianto per lo spegnimento automatico degli incenti, lo shunt per l'evacuazione dei fumi, l'ascensore, l'impianto tv a circuito chiuso, oltre che la sistemazione esterna del parcheggio, le opere viabilistiche e la realizzazione dei bagni. Il Modello d'Italia 2012, il modicano Egidio Nicastro, ospite nei nostri studi radiofonici. Il Radio Mediterraneo nel corso della trasmissione di Rosario Rametta ha parlato della vittoria al concorso nazionale che gli aprirà le porte nel mondo della moda. Sentiamo. Modello d'Italia 2012, sono contentissimo e che dire, spero di proseguire questa esperienza con qualcosa di più concreto. Allora, questo titolo adesso, che cosa ti aspetti da questa esperienza, da questo titolo appunto arrivato, Mister Italia 2012? Qual è la tua ispirazione? Ho letto che hai fatto anche il provino per il Grande Fratello, è vero? Sì, l'anno scorso però, all'edizione 2011. Quest'anno è stata molto più ristretta e quindi non c'è stato il provino del Grande Fratello. Ho capito, sì, infatti. Ci sono stati altri casting cinematografici e cose varie. A te piacerebbe fare l'attore? Ma, perché no, sì. Il campo dello spettacolo, praticamente. Studiare appunto edizione e recitazione. Ho avuto molti complimenti, diciamo, da amici, parenti e anche qualche fan appunto ha voluto partecipare a questa mia premiazione, quindi viene a complimentarsi e io ne sono più che contento. Bene, ancora complimenti a Egidio Nicastro. Noi adesso parliamo degli appuntamenti in programma per il fine settimana, l'open day dello sport, sabato 6 ottobre a Modica. L'evento è promosso dall'Avis e avrà lo start-up alle 19 in corso Umberto, da piazza Monumento a piazza Corrado. Rizzone, diverse associazioni direttantistiche si esibiranno in performance sportive. In piazza Matteotti, in due stand, sarà possibile acquistare con incassi devoluti in beneficenza, l'arancino della salute, ad 1,50 euro. L'evento intenta sensibilizzare giovani e meno giovani alla pratica dello sport e all'importanza della donazione del sanque. Con questa notizia termina il telegiornale di Video 1. L'appuntamento con l'informazione torna alle 19.30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.